Queste reliquie poi che c'erano, io ricordo Venezia, si vede ancora, credo, questo, un piede di Santa Gavirina messo, tu sei dicendo cattolico, poi, no? Una teca stupenda che era già, penso, un pochino, no? Una sorta di non di scarabatto, ma per mettere in evidenza le cose. Ecco, allora, ti volevo chiedere, ma penso che voi ne farete altre domande, e diciamo che in questa zona del Napoletano, qui c'è una differenza tra il scarabatto dei siciliani e questi del Napoletano, insomma, che sono, ho visto anche che eri un po' di presso, no? Queste le idee dei dettagli, insomma. In effetti, in Sicilia, le origini dello scarabatto sono leggermente diverse. Sono fatti in cera e la cera era utilizzata nell'antica Roma, proprio per rappresentazione di defunti. Soltanto nella Repubblica, dopo la fine della monarchia a Roma, e l'inizio della Repubblica, proprio per evitare che ci fossero delle personalizzazioni troppo forti del culto della persona, era vietato rappresentare degli esseri umani, appunto, delle persone. Questo veniva concesso soltanto alle famiglie, alle famiglie nobili. Le famiglie nobili avevano, potevano avere i ritratti degli avi, che attestavano proprio la loro nobiltà. Però questi ritratti degli avi non venivano mantenuti all'interno della casa, venivano mantenuti in degli armaglietti. E in certi momenti particolari, come nel caso di funerali, gli armaglietti venivano aperti e ne venivano tirati fuori in queste immagini, che come appunto dicevo erano in cera. E in questo modo gli avi erano presenti agli avvenimenti salienti delle famiglie nobili.